benvenuti a fare bene, il streaming di storie per pensare e fare emotivamente molto carica intense, crescere, piuttosto che una platea con decine di ospiti in studio è emozionante, taglia la sicurezza, devi partire con efficacia, salute giustamente, assolutamente, la sicurezza sarà fondamentale dei messaggi di positività, leadership autentica ci saranno anche tanti sorrisi in più ti ringrazio per la domanda, bella domanda uno spazio di confronto sicuro, cambiare questo paradigma nell'ambito di Italia Love Sicurezza però sono persone di grande cuore che sia giusto comportarsi da leader proprio come delle rock star secondo me questo è un bene